Ciao ragazzi, qui è Flash81 che vi parla Oggi vi porterò un altro episodio di Alien e Betus Predator Non so ancora bene quanti me ne mancano prima che questa serie sia conclusa Appena, ve lo devo subito, appena la serie di Alien e Betus Predator sarà conclusa, finita Per guardare un po' con cosa partire, sto pensando, e lasciatemi un commento qui sotto Di partire con tutta la saga di Batman Arkham Ovviamente farai Arkham Origins, Isilum, Arkham City e poi Knight Fatemi sapere Tanto, ce ne ho diversi, basta andare a vedere anche il video precedente che ho caricato della mia collezione di videogiochi E magari lì se vedete un titolo che vi può piacere, me lo scrivete e io ve lo porterò Magari se ho già iniziato una serie o una saga come il tempo di Batman Porterò a termine quella saga lì o quella serie e dopo faccio quello che mi chiedete Ovviamente non mi chiedete giochi tipo Dynasty 2 oppure Watchdog 2 perché non ce l'ho Non posso proprio portarvi lì perché mi mancano proprio il materiale Ok, ora è il tempo di iniziare con il gameplay, a dopo Eccoci, via Vediamo come sarà questo filmato Ammesso che ci sia sempre un filmato ragazzi Guarda, meno male, ora siamo a strima come sete e sto caldo insopportabile finish, meno male Guarda e subito Guarda eosella Crampie Guarda, meno male, magari alloraihu Guarda case Guarda avevo Guarda Re Guarda Guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci siamo quasi. Il laboratorio di ricerca è molto importante. Andiamo. Wow, questo posto è enorme. Ci credo che hanno tenuto i coloni a distanza. Credo sia il posto dove i guai sono iniziati. Grazie a tutti. 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 Un vero che c'è il ringo? No, attimo. Correre no. Eh sì, c'è un xero dentro il testo, ma andiamo via. Certo. Ritarico le munizioni. Non sei confermata. Credo che quello fosse l'ultimo. Sì. Soldato, devo occuparmi del caporane al più presto. Sì. 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 È l'unica possibilità. Liber sonno la terra è in vita finché non la porteremo ad un'unità medica. È tutto ciò che possiamo fare per lei, per il momento. E non usare il termine persona artificiale. Preferisco che mi chiami per quella che sono. Un androide. La compagnia mi ha creato, ma sono dalla tua parte, non dalla loro. Dopo che la tua navicella e la sua astronave sono state distrutte, c'è solo un modo per lasciare il pianeta. Ecco, quello strumento in mano a Weyland. È un palmare, con un trasmettitore di emergenza. La sua navicella di soccorso arriverà in men che non si dica. Preparo il caporale per il viaggio. Dirigiti alla piramide e recupera il palmare. Ci incontreremo là. Manda i miei saluti al signor Weyland, va bene? Ti mando un itinerario per la piramide sull'interfaccia. Ah, brutte notizie. Ma dovrei andare in mancare tutto il laboratorio. Mixe sono morti. Sono liberi. A presto! Fai. Bambino! A presto! Sì, non è vero, non è vero. E' un'altra cosa? Sì. Evidentemente credi di essere in una crociata. Non sei che una semplice recluta, una pedina, carne da macello. Prima lo capirai, meglio sarà per te. Xenomorfi rilevati nella canna accennale. Procedure di contenimento avviate. Sottotitoli e revisione a cura di contenimento di contenimento. Non si guarda il servizio. Non si guarda il servizio. L'esmieto è un occhio servo. Buon appetito! La uova in un'unica di corporation. Buon appetito! Achele! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da quella parte soldato, quelli sono i comandi dell'ascensore che ti porterà giù dove si trova Weyland. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.